All'indomani del Congresso Nazionale di Venezia, l'organismo unitario dell'Avvocatura rimane tale quale apprima. Stesso statuto, stessi meccanismi elettivi della Giunta e dell'Assemblea. Nonostante negli ultimi mesi istituzioni e associazioni di categoria avessero ipotizzato il progetto di un modello rappresentativo dal carattere federativo e dunque una sostanziale inversione di marcia rispetto al passato, alla fine le divisioni all'interno del mondo forense e gli interessi di quanti interessati al mantenimento dello status quo hanno prevalso. Ad evidenziare inesorabilmente la frammentarietà di vedute riguardo il modello di governance da adottare, le sei differenti mozioni di riforma presentate all'Assemblea dei Congressisti, nessuna delle quali ha poi raggiunto il quorum per l'approvazione. La scelta dell'Unione, quella di uscire dal cosiddetto tavolo 39, quello attorno al quale avrebbe dovuto essere concertato un nuovo modello della massima assise dell'Avvocatura, alla prova del 9 di Venezia si è rivelata lungimirante. Come dichiarato dal presidente Migliucci nel suo intervento al Teatro La Fenice è impossibile invocare o auspicare unitarietà prescindendo dalla condivisione dei valori. La valorizzazione di quelli specifici che muovono l'operato e definiscono il carattere dell'Unione e Camere Penali, come di ogni associazione forense, continuerà a non essere tra le priorità dell'organismo unitario.